Cari amici, ieri abbiamo fatto il concerto con la Danazione di Fosse è stato molto bello, gli applausi del pubblico sono veramente stati coinvolgenti hanno questa maniera di applaudire in maniera ritmica e veramente con il coro abbiamo avuto una bellissima ovazione quindi per voi che siete i miei amici e che mi seguite nell'attività volevo informarvi che la Danazione di Fosse sta avvenendo bene e poi voglio parlare di una piccola iniziativa del teatro qui il teatro ha una piccola struttura di risorse umane che si occupa un po' del benestare degli artisti e c'è stato un piccolo pensiero come il regalo di fine anno del 14 come augurio per il 15 che è una cosa carina, molto utile fra l'altro ma è bello il principio ecco ve la faccio vedere, è una carica batteria per telefono ed è con il marchio del teatro quindi il teatro ha comprato questo oggetto e l'ha donato ai suoi dipendenti a me sembra un'iniziativa bella al di là del valore economico che è comunque un valore importante calcolando tutte le persone che lavorano all'OPEA ma è anche una maniera per fare gruppo e questo è un teatro importante io lavoro da vent'anni nei teatri d'opera e questo è il primo regalo di gruppo che ho avuto nella mia carriera credo che sia una buona idea anche per i teatri italiani gli artisti hanno bisogno di sentirsi coccolati per dare il meglio e queste cose aiutano un caro abbraccio, ciao grazie